Salute a tutti e bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute, tanti auguri da parte di tutti noi. Quest'oggi parleremo dell'aumento del 20% sotto le fesse dei casi di depressione, come intervenire. Poi le regole da rispettare andando a far visita a persone ammalate per proteggersi ed evitare le infezioni ospedaliere, le feste e le abbuffate, i problemi gastrointestinali degli abusi e la tavola natalizia dei celiaci, come intervenire su chi abbia bevuto troppi alcolici o abbia assunto sostanze stupefacenti. E poi per gli animali parleremo dell'acquisto responsabile dei cuccioli in questo periodo e di tratta degli animali dai paesi dell'Est. Le feste dovrebbero essere motivo di gioia, spensieratezza, riposo. Eppure, dicono le statistiche, proprio in questo periodo aumentano del 20% i casi di depressione, di disagio psichico, vero e proprio. Benvenuto al professor Paolo Fiorinastro, che è psichiatra alla Sapienza di Roma. Perché quando tutti si divertono c'è una certa parte di popolazione che invece proprio per il divertimento altrui e per le feste cade in depressione? I articoli del giornale sottolineano proprio questo, il Natale a luci spente quest'anno, cioè è indiscutibile che questa situazione di crisi economica e non solo economica, abbia su certe persone una particolare influenza negativa. Soprattutto su coloro i quali hanno costruito una propria identità sul benessere, che hanno fatto tanto per costruire questo benessere e poi improvvisamente questo benessere viene meno, ovviamente viene meno anche una parte della propria identità. Quali sono i segnali che noi dobbiamo cogliere? Che magari un nostro familiare, un amico, una persona a cui siamo vicini, insomma gli sta succedendo qualcosa proprio in questo periodo? Io credo che un po' bisognerebbe distinguere, cioè le persone in generale, qualunque sia la malattia, tendono a patire meno. Quindi se uno ha per esempio il colpo della strega, si ferma, si immobilizza e cerca di sentire meno dolore. Più o meno ugualmente anche le persone che hanno una sofferenza mentale fanno un'operazione simile, cioè tendono ad estranearsi, tendono ad isolarsi. Questo è un sintomo, un segno, soprattutto nei giovani che tendono a passare molto tempo a casa, davanti al computer, eccetera. Ma quando poi si crea una situazione gioiosa di festa, di cena, di aggregazione familiare, queste persone avvertono maggiormente un senso di angoscia per la moltitudine delle persone che sono nel loro contesto. Questo è il primo aspetto. Una persona che invece abbia un disturbo dell'umore, quindi sia più depresso, vive con fatica il fatto che gli altri gioiscano in maniera evidente, mentre lui avverte questa mancanza di gioia di vivere. Di partecipazione, appunto, no? Esatto, esatto. E professore, allora che cosa fare? Come intervenire? Allora, io credo che sia un'occasione per dare un'indicazione che vale per tutte le malattie. Cioè andare a chiedere un aiuto o a verificare il proprio malessere con una persona addetta ai lavori è una cosa da fare in tutti i sensi, in tutti i casi, perché è oramai acquisito a livello scientifico che le malattie mentali non sono malattie definitive, croniche che non si possono curare. Non ci si deve vergognare di avere una depressione, un'ansia, uno stato patologico. Assolutamente. Anche le malattie più gravi come le psicosi migliorano nell'83% dei casi dopo un anno, se uno rispetta le indicazioni terapeutiche dello psichiatra, dopo un anno si ritrova con molti meno sintomi o addirittura assenza di sintomi. Rapidamente professore, c'è differenza fra il disagio mentale, psichico, del bambino rispetto a quello dell'adulto, sempre in questo periodo? Assolutamente direi sì, anche se nei ragazzi i segnali sono piuttosto diversi da quelli degli adulti, ovviamente perché la loro realtà... Magari tendono ad esagerare, no? Magari, che ne so, ad ubriacarsi, a drogarsi, cose del genere. Aumentare le richieste in qualche modo nei confronti del contesto familiare che molto spesso è il contesto all'interno del quale la malattia si è creata e di conseguenza risponde in maniera piuttosto incerta alla richiesta dei ragazzi. Professore, grazie. Grazie a lei. Sono moltissime le persone costrette a letto da un trauma oppure da una malattia cronica e in questo periodo di festa naturalmente ricevono moltissime visite da parenti ed amici. Benvenuto al professor Nicola Petrosillo che è primario di malattie infettive allo Spalanzano di Roma ma soprattutto è il presidente della Simpios che è la società dei medici che si occupano di infezioni ospedaliere. Professore, benvenuto e auguri. Allora, quale attenzione dobbiamo fare quando andiamo a far visita ad uno di questi malati per proteggere noi stessi ma soprattutto loro dalle infezioni? Io voglio innanzitutto dire che noi dobbiamo andare a trovare gli ammalati in ospedale perché sono delle persone fragili, soprattutto gli anziani, vanno in qualche modo visitati perché vanno dati loro quegli input sensoriali che gli permettono di mantenere la normale relazione con gli altri. Ci sono molti anziani che in ospedale possono andare incontro a stati confusionali acuti proprio per la mancanza di input sensoriali. Perché non abbandonati in qualche modo dalla famiglia, non gli si fa molta attenzione e non solo in un periodo natalizio. Il malato in ospedale va accudito come se fosse a casa. Però, professore, quali particolari attenzioni comunque dobbiamo avere? Diciamo che ci sono due aspetti. Quello della prevenzione delle infezioni nei confronti del paziente ricoverato e quello della prevenzione delle infezioni nei confronti del visitatore. Il visitatore che va in ospedale non deve avere delle infezioni in atto, soprattutto infezioni acute respiratorie. Deve evitare di andare in ospedale se ha l'influenza, se ha un raffreddore molto importante perché può trasmetterlo a delle persone fragili. I soggetti ricoverati sono persone fragili, talvolta sono immunodepressi, talvolta hanno una maggiore facilità di avere le infezioni. E quindi è molto importante che non vada o se vada comunque protegga le prime vie respiratorie. C'è una regola che i bambini al di sotto di una certa età in ospedale non potrebbero entrare. Però soprattutto durante queste feste il professore si tende a chiudere un occhio, il bambino vuol vedere il nonno, però quali rischi può correre? Il bambino non corre grandissimi rischi da questo punto di vista. Il motivo per cui il bambino sotto i 12 anni in generale l'età non dovrebbe venire in ospedale più legato a problemi psicologici nei confronti del bambino perché il bambino potrebbe trovarsi di fronte a delle situazioni un pochino traumatizzanti e poi potrebbe creare anche un po' di confusione sono bambini molto piccoli che possono... L'altro problema è legato anche qui al fatto che i bambini molto piccoli possono avere in incubazione delle malattie respiratorie acute, delle infezioni, delle forme esantematiche, la varicella, quant'altro, senza manifestazioni. Però possono trasmetterle. Professore, che tipo di profilassi di pulizia, di igiene vorrei dire dobbiamo rispettare prima di entrare in contatto con un malato sia in ospedale ma anche a casa nostra. Siamo appena rientrati, siamo stati sull'autobus, abbiamo parcheggiato il motorino, ci siamo allacciati le scarpe, i lacci delle scarpe. Che bisogna fare? Il lavaggio delle mani è fondamentale. Il lavaggio delle mani per i visitatori, per gli infermieri, per i medici. Le mani trasmettono tutti i microorganismi. Li trasmettono perché noi ci tocchiamo gli occhi, il naso, le mucose. Le mucose sono una sede nella quale i microorganismi penetrano molto facilmente e possono essere trasmessi molto facilmente. Professore, l'abitudine che hanno molti, che peraltro fa molto arrabbiare le infermiere, che appena arrivano in ospedale si siedono sul letto del malato? Non è quello uno dei problemi in causa sulle infezioni, però non è sicuramente una cosa buona perché uno potrebbe avere i vestiti sporchi, potrebbe essere bagnato e comunque non è una norma che in qualche modo fa piacere a chi in ospedale vuole avere comunque una situazione di igiene. Professore, quando noi entriamo negli ospedali, nelle aree critiche o addirittura in sala di rianimazione, quando appunto ci permettono di far visita ai nostri congiunti, dobbiamo bardarci, diciamo, con un cappellino, con la maschera, con i guanti, lavarci bene le mani con un prodotto specifico che è altamente disinfettante. Basta questo a tutelare il malato, lì veramente immunodepresso? Ecco, qui abbiamo veramente, più modernamente esistono oggi, in Italia ce ne sono molte, delle terapie intensive aperte, nelle quali 24 ore su 24 è possibile al familiare stare vicino, proprio per dare quegli input sensoriali che sono molto importanti a soggetti che hanno delle situazioni molto impegnative dal punto di vista neurologico. Che cosa dobbiamo fare? Ce lo deve dire il personale infermieristico, il personale medico, perché esistono dei pazienti nei confronti dei quali dobbiamo adottare delle misure di isolamento da contatto, quindi basta praticamente metterci un camice, metterci dei guanti, non toccare, la cosa importante è non toccare il paziente vicino e poi toccare l'altro, magari il paziente vicino chiama, allora uno va lì, lo accarezza, prende una cosa, ecco, si possono trasferire dei microrganismi da un paziente all'altro, però bisogna seguire quello che ci dice il personale, perché non esiste una sola regola, esistono vari pazienti con diverse patologie e con diverse modalità di trasmissione. Ma anche in questi casi particolarmente gravi e non solo in questo periodo, siamo vicino ai nostri familiari e comunque a chi vogliamo bene che sta soffrendo. Professore, grazie. Grazie. E continuiamo a parlare di questi giorni di festa in cui tutti, super giù, stiamo un po' abusando di cibi, soprattutto di dolci. Può essere un problema non soltanto per la linea, perché molti di noi non lo sanno, ma potrebbero essere celiaci. Benvenuto al professor Giovanni Camarota, che è gastroenterologo al Policlinico Gemelli di Roma. Professore, tanti auguri e benvenuto ad Ippocrate. Allora, prima di parlare di celiachia, quindi la parte importante, chi invece non ne soffra, ma abbia soltanto, insomma, stra-abusato a tavola in questi giorni e magari arriva a sera con un senso conati o comunque che non si sente bene, che deve fare? Innanzitutto non dovrebbe arrivare in quelle condizioni, diciamolo prima, ovviamente. Questo è un buon consiglio sempre da dare preliminarmente. Prevenire è meglio che curare. È meglio che curare. Nel caso si arrivi a una buffata di quelle natalizie, come ci accingiamo tutti bene o male ad affrontare in questi giorni, la prima cosa da fare è mantenersi ovviamente leggeri per il pranzo successivo, per il pasto successivo. Ma se uno però ha abusato, allora molti o si provocano il vomito oppure abusano di antiacidi o altri prodotti digestivi o, insomma, poi ingarbugliano ancora di più la situazione pensando che ci siano gli amari che fanno digerire, le acque minerali che fanno digerire, insomma. E questo in realtà è una cattiva informazione un po' che gira. In realtà non dovrebbero, come ha detto lei giustamente, peggiorare la situazione ricorrendo a dei rimedi che sono tutt'altro che opportuni in questi casi. Dovrebbero, secondo me, forse facilitare la digestione facendo una passeggiata all'aria aperta favorendo un po' la motilità anche proprio del tratto gastrointestinale e favorire un po' l'attività naturale proprio dello stomaco nel tentativo di liberarsi della quantità di cibo che si è ingerita. Che si è ingurgitata. Allora, caro professor Camarota, dicevo prima che qualcuno potrebbe non saperlo naturalmente di essere celiaco e entrando in contatto poi con una quantità un po' superiore rispetto al normale di cibo, può magari sentirsi male. Quali sono i segnali? Dunque, la malattia celiaca è una malattia in realtà in aumento di incidenza in questi ultimi anni. Può intervenire anche nell'età adulta con una sintomatologia del tutto subdola oppure non eclatante. Quindi un paziente può all'improvviso scoprire di essere celiaco. In realtà non avviene mai in maniera traumatica o all'improvviso con dei sintomi eclatanti che portino per esempio il paziente in proprio soccorso. Questo non succede mai. Però il paziente può scoprire di essere intollerante al glutine perché la malattia celiaca è una forma di intolleranza a una specifica proteina, il glutine, che è contenuto in molti cereali, frumento, l'orzo, la segale. E quindi da quel momento in poi un po' la vita di questo soggetto cambia perché dovrà per tutta la vita in qualche modo evitare assolutamente di ingerire alimenti contenenti il glutine. E che è un problema però noi in queste feste perché, che ne so, i panettoni, i torroni e quant'altro, insomma, chiaramente verranno sottratti a queste persone. O ci sono degli alimenti specifici natalizi, diciamo, anche per queste persone? Assolutamente sì. L'aumento, dicevamo, di frequenza di questa patologia, di questa forma di intolleranza, chiamiamola così, è un po' più dolce la terminologia, ha fatto sì che le aziende si interessassero un po' alla produzione di prodotti analoghi. Anche voluttuari, diciamo. Allora, professore, come, c'è un test per capire se una persona è celiaca? Assolutamente sì. Ci sono preliminamente degli esami sierologici da fare. C'è un classico esame del sangue, ci permette di sospettare con grande, diciamo, ipotesi diagnostica positiva o negativa della malattia celiaca. La malattia poi va confermata con un esame istologico attraverso l'esecuzione, purtroppo, della... Una piccola biopsia, ma professore, i segnali che ci dicono, guarda che forse sei intollerante al glutine, come ci ricomunica il corpo? In realtà, nell'adulto, diciamo, i primi sintomi, quelli, diciamo così, un po' subdoli che possono intervenire nell'età adulta, sono l'anemia, la carenza del ferro, ad esempio, che porta all'anemia, un paziente con una storia di osteoporosi. Sono queste, diciamo, le caratteristiche che nell'adulto debbono, in qualche modo, far sospettare la malattia celiaca. Nel bambino, invece, la malattia può insorgere in maniera un po' più classica, più eclatante, con dei sintomi più tipici come la diarrea, il dolore addominale, la mancanza di appetito, la voglia di non mangiare. E qui sono i segnali nel bambino. Allora, professore, in conclusione, è una malattia per cui non esiste una cura, però, al contrario di molte malattie, la soluzione sembra quella più a portata di mano, la più facile, che è l'alimentazione. Ha detto proprio bene. È una malattia, tra le poche, che non richiedono l'intervento di un farmaco. Per cui il paziente può curarsi benissimo, invece la cura esiste ed è assolutamente efficace, che è quella di eliminare il glutine dalla dieta. E mangiare comunque una varietà di cose. Sì, sono tantissime che sono a disposizione. Professore, grazie. A lei. Per il come si fa di oggi, vogliamo capire come intervenire su uno degli aspetti più frequenti di questi giorni. Alziamo un po' troppo il gomito molti di noi. Qualcuno, per divertirsi, fa uso anche di sostanze che non dovrebbero assolutamente invece essere usate e che dobbiamo fare quando poi ci si sente male. Benvenuta Anna Maria Sant'Andrea, che è infermiera al Policlinico Tor Vergata. Grazie per essere qui, tanti auguri. Grazie. Allora, dottoressa, chi inizia con l'aperitivo, poi prosegue a tavola con la mezza bottiglia di vino, poi si fa il whisky, poi l'amaro per digerire e quindi lo champagne, il prosecco e quant'altro alla fine si sente male. Che cosa deve fare? Allora, quando ravvisiamo una situazione appunto di alzata di gomito, se vogliamo dire così, la cosa che dobbiamo immediatamente fare è innanzitutto non bloccare il naturale meccanismo di vomito. Bisogna vomitare, se uno ne sente la necessità, oppure il vomito è indotto? No, no, allora il vomito non deve essere indotto, si ha naturalmente perché questo è un meccanismo di difesa che il nostro organismo mette in atto per allontanare ciò che in quel momento è nocivo. Quindi non dobbiamo in alcun modo bloccare il vomito. Quindi quelli che si mettono le dita in vola, quelli che prendono il limone, il latte, insomma qualcosa per poi indurre il vomito sbagliano. Diciamo queste sono metodiche un po' empiriche che sarebbe meglio evitare di farlo. Perfetto. Allora, se uno ha l'istinto a vomitare deve farlo e viceversa se uno non ce l'ha ma sta male? Allora, se la situazione di malessere permane per tempo, sarà bene rivolgersi ad un pronto soccorso. Qualora si ravviso una situazione di stato di inconscienza per il soggetto, bisognerà immediatamente attivare la catena della sopravvivenza, chiamando il 118 e mettere il paziente in sicurezza in quella che è la posizione laterale di sicurezza il paziente deve essere riverso sul fianco in modo che possa respirare ed eventuali liquidi presenti appunto all'interno della cavità orale possono essere facilmente espulsi all'esterno e non andare a dostruire le vie respiratorie per evitare appunto il rischio proprio di arresto respiratorio. Allora, va bene festeggiare in questo periodo, però facciamo attenzione che anche alcune terapie farmacologiche croniche interferiscono chiaramente con l'assunzione massiccia di alcolici e super alcolici, quindi attenzione, festeggiamo sì ma con cautela chi prende farmaci soprattutto. Dottoressa, se invece ci accorgiamo che una persona con cui siamo in contatto inizia a comportarsi in un modo strano perché magari ha assunto un'ecstasy oppure ha fumato la canna o addirittura droghe, ha assunto droghe ancora più pesanti, che dobbiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare è comunque rivolgersi ad un pronto soccorso perché poi lì saranno messe in atto tutte le indagini necessarie per vedere che cosa è il soggetto assunto e quindi poi quale antidoto andare ad utilizzare se esso esiste. Ma nel frattempo però se la persona per esempio per l'estasi inizia a sudare, la temperatura si alza molto eccetera, dobbiamo comunque chiamare il 118, non ci sono interventi, no assolutamente. Grazie dottoressa. Di nulla. In questo periodo molti bambini chiedono al papà in regalo un cucciolo, dicono le statistiche che sono 400.000 gli animali, cani, gatti in più che si vendono in questo periodo e lo chiedono i bambini come se fosse un giocattolo e molto spesso i genitori proprio come dei giocattoli li accontentano. Benvenuta, l'avete vista la stupenda Porzia che è una leccatrice forse nata della sua amica che è Marzia Novelli, la dottoressa Novelli e si occupa della comunicazione della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Veterinari del nostro paese. Grazie per essere qui tutte e due. Sono circa 400.000, il problema è che quasi la metà di questi tornano poi in una situazione di abbandono, quindi chi prende un animale lo dovrebbe fare in maniera responsabile. Cioè vi faccio capire, subito dopo le feste 200.000 cani vengono abbandonati? Non solo cani, parliamo di tutti gli animali d'affezione, quindi cani, gatti, criceti, canarini, tutto quello che viene considerato animale d'affezione. Quanto costa, poi parliamo anche della vera e propria tratta di cuccioli, soprattutto dai paesi dell'est, quanto costa un gattino o un cagnolino in questo periodo? Guardi, il prezzo è variabile ovviamente, dipende da dove si va ad acquistare, ma in un negozio può costare dai 650 euro fino ai 1200, 1300, dipende dall'animale che si sceglie. Mentre ci sono centinaia di migliaia di cani abbandonati nei canili, che sono gratis e che ci danno lo stesso amore. La tratta di cuccioli, perché proprio dai paesi dell'est? Perché costano di meno. Esistono delle vere e proprie fabbriche di cuccioli nei paesi dell'est e questi cuccioli vengono importati illegalmente in Italia. Peraltro in condizioni drammatiche, perché sono nascosti nei portabagagli delle auto? Sono nascosti perché esiste una normativa che dice che gli animali possono arrivare in Italia soltanto dopo aver completato la profilassi dell'antirabbica. Invece questi sono cagnolini che vengono sottratti peraltro alla madre durante l'allattamento? Sì, per questo hanno poi anche dei traumi. Molto spesso la maggioranza muore durante il trasporto e purtroppo anche a casa dei proprietari, dei nuovi proprietari che li acquistano. Senta, dottoressa, come facciamo a renderci conto se quell'animale ha tutte le carte in regola oppure no? Tanto dalla documentazione dell'animale e dall'età. Un cucciolo che non ha avuto, non ha ancora i 50 giorni, non ha raggiunto i 50 giorni, è un cucciolo sicuramente che è stato sottratto alla mamma e che non ha finito nemmeno l'allattazione, quindi non è stato nemmeno svezzato. E ovviamente è più piccolino e ha probabilmente dei grandi problemi. Invece un animale più grande, quindi intorno ai 2-3 mesi di età, è ovviamente più adulto. È già sperimentata la sua salute, peraltro. I canili invece, dottoressa, in Italia ce ne sono moltissimi, peraltro ci sono anche delle associazioni che curano dei punti di appoggio, diciamo, non dei veri e propri canili, ma insomma cercano di smistare cani, ma anche gatti ed altri animali che si trovano in uno stato d'abbandono. Perché dobbiamo preferire questa seconda strada? Ma assolutamente perché ne sono pieni appunto canili, gattili e quant'altro. Lei viene da un canile, è un cane stupendo, ce ne sono tanti, tantissimi e sono in grado di dare altrettanto affetto di un animale comprato, ovviamente. Grazie, dottoressa. Grazie a lei. E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Ippocrate, ipocratechioccioarai.it per poterci contattare, mandateci le vostre videodenunce oppure www.ipocrate.blog.rainews24.it per poter rivedere questa ed altre puntate con la nostra piccola enciclopedia online. Se volete vi aspetto lunedì mattina alle 10.30, suggerire Parlamento con articolo 32, sabato prossimo alle 18.00. Qui su Rai News torna Ippocrate il diritto alla salute. Ciao. Grazie a tutti.